Successo nelle molteplici aree della nostra vita. Oggi continuiamo a parlare del perché alcuni imprenditori non riescono ad ottenere il successo che sperano e affrontiamo un tema molto particolare e molto personale, ovvero quello, possiamo definirlo della sfera personale, ma in realtà è molto più ampio come concetto. Un problema che hanno tantissimi imprenditori e libri professionisti è che hanno una vita totalmente sbilanciata. Ad esempio c'è chi si concentra solamente sul lavoro e ignora tutte le altre aree della propria vita, quindi la salute la ignorano completamente, magari mangiano male, mangiano in ufficio e non fanno alcun tipo di attività fisica e questo ovviamente ha delle conseguenze. Oppure altre persone che non hanno tempo da passare con la famiglia. Se ci pensiamo, una delle cose più importanti che abbiamo è proprio la salute e seconda, immagino, la famiglia. E dedicare solo tempo al lavoro è assolutamente frustrante a livello personale. Quindi ok, all'inizio vuoi accelerare, vuoi far crescere il tuo business, quindi ti impegni di più, lavori più ore di quanto immaginavi, ma questo deve avere un limite perché non puoi dedicare tutta la tua vita solamente al lavoro. E quando questo sbilanciamento diventa, tra virgolette, importante o si dilunga per molto tempo, allora iniziano i problemi. Perché? Uno, gli imprenditori iniziano ad essere demotivati, perché vedono che innanzitutto faticano a ottenere il successo velocemente come speravano, per altre motivazioni che abbiamo viste, e gli arriva poi il colpo di grazia, nel senso il colpo che li demotiva ancora di più, perché iniziano a crollare anche le altre aree della loro vita. Salute, cade a picco. Famiglia, cade a picco. Imprenditori che divorzano, figli che non li vogliono più vedere. Sono situazioni veramente brutte in alcuni casi. Ed è una cosa che non dobbiamo e non vogliamo assolutamente fare. Perché quando abbiamo un'attività lo scopo è proprio innanzitutto stare bene, avere più tempo libero e avere più risorse per fare ciò che vogliamo. Se il nostro tempo è dedicato solamente al lavoro, ci rendiamo conto che tutto il resto, quello per cui avevamo inizialmente avviato il nostro business, viene a mancare. E a questo punto qual è il senso di avere il business? Nessuno. Quindi è assolutamente importante avere il giusto equilibrio. Il che non significa che da domani devi dimezzare il tempo che passi al lavoro per dedicarlo ad altro, ma significa trovare durante la settimana, durante i mesi, un pochino di tempo per ognuna di queste attività. Per cui prenditi un paio di ore a settimana, due giorni per fare esercizio fisico. È una sciocchezza? No, non è una sciocchezza. Assolutamente vi cambierà completamente la vita. Oppure fate in modo che un sabato pomeriggio o un weekend lo riuscite ad avere libero da dedicare alla famiglia per passare del tempo con la moglie, con i figli, con il marito, con i genitori, in base alla vostra situazione. Ed è un tempo che ha un valore emotivo veramente grande, ma non ha un ritorno economico. Ed è per questo che gli imprenditori fanno fatica, perché quando si concentrano al 100% sul business, loro vedono due cose. Tempo investito, quanti soldi mi porto indietro. Ma noi non possiamo considerare solo i soldi, ma dobbiamo considerare anche il benessere emotivo che traiamo, che otteniamo da ciò che facciamo. E passare del tempo con la famiglia, dedicare del tempo a noi stessi, ha un valore assolutamente importante. E quando siamo carichi, quando siamo soddisfatti anche nelle altre aree, allora anche nel lavoro saremo molto più performanti e riusciremo a fare di più a parità di tempo o addirittura in meno tempo. Quindi è assolutamente necessario avere un bilanciamento. Quindi rifletti su questo e chiediti, come passano le tue giornate, le tue settimane e i mesi? Riesci a trovare il tempo, tra virgolette, per tutto? Cioè per queste aree che oggettivamente sono importanti? Oppure dedichi solo del tempo al lavoro e ignori tutto il resto? Nella seconda ipotesi, prenditi del tempo e riflettici, perché la vita non è solo lavoro. Con questo è tutto, io sono Massimo Martinini e ci sentiamo domani. Ciao! Aggiungo, l'errore più grave che potete commettere è quello di aspettare che la situazione vada fuori controllo. Esempio stupido, quando inizi a dedicare del tempo a qualcuno, quando quel qualcuno ti arrabbia, perché prima ignoravi la cosa. Oppure inizi a dedicare del tempo alla tua salute quando oramai sono arrivati i problemi. Ecco esattamente ciò che non devi fare. Fai una vera analisi di coscienza e chiediti, ma sto dedicando il giusto tempo anche a queste aree della mia vita? Perché se la risposta è no, sappi che ti stai scavando la terra sotto i piedi, prima o poi ti troverai sommerso. Quindi muoviti prima che sia troppo tardi. Con questo è tutto davvero e ti saluto. Ciao!